Sono Sabatino Sirica, sono nella mia azienda di San Giorgio a Cremano e stamattina organizziamo la pastiera napoletana. Ingredienti grano, ricotta, zucchero. La ricotta va messa il giorno prima zuccherata perché va a maturare e ci rende la pastiera molto più lucida. Aromi, cortecce di arancio e a cubetti, bacca di vaniglia e uova. Per la frolla abbiamo farina, burro, zucchero, uova, una grattata di arancio e una mezza bacca di vaniglia. Due giorni prima che intendete fare la pastiera, si mette a bagno un chilo di grano con 5 litri di acqua, si mette a bollire per un'ora, si chiude ermeticamente e si lascia stare tutta la nottata. Il giorno dopo va sciacquato e va messo sopra al fuoco con un poco di burro, un poco di strutto, un poco di sale e si cuoce e poi è pronto per la pastiera. Incominciamo a mettere il grano in una bacinella. Andiamo a manipolare un poco, ci aggiungiamo alla ricotta precedentemente messa in zucchero il giorno prima e andiamo a girare. Mettiamo una parte del francio grattugiato precedentemente permesso, ci andiamo a mettere una parte di bacca di vaniglia. Quando volete un dolce di qualità non vadate a risparmiare, cercate sempre di mettere a tavola i prodotti di qualità che vi consentono sempre di far uscire un dolce sempre perfetto. Abbiamo messo gli aromi, adesso andiamo a mettere le uova, mettiamo solo i tuorli. Allora per il ripieno ci siamo ed è pronto. Questa è la frolla per foderata la tortilla della pastiera. Abbiamo aggiunto il burro, aggiungiamo lo zucchero, aggiungiamo la grattugiata di arancia precedentemente fatta, mettiamo una parte sempre di bacca di vaniglia e incominciamo a impastare. Si mischia burro e zucchero, abbiamo messo la farina a fontana. Per fare la frolla abbiamo usato la farina rossa di caputo che ci mette in condizione di fare uscire sempre di prodotti di qualità. Quando si va a impastare fa in modo che non si deve incordare perché nel momento che si va a incordare non si tira. Abbiamo preparato l'impasto della pastiera adesso stendiamo la pasta frolla precedentemente impastata e messa a riposare in frigorifero per far sì di ottenere sempre un prodotto maturo. Mi raccomando quando la mettete nella tortiera di far sì insomma che si riesce poi a stendere per bene. Poi un passaggio sopra si va a togliere quella parte eccedente. Con i polpastelli si va a tirare la parte un poco più doppia, si porta al livello del bordo, poi con un coltello si va a tagliare. Adesso lo andiamo a buquerellare un poco così viene perfetto perché fuoriesce un poco l'aria. Andiamo a mettere il ripieno dentro. Abbiamo riempito la pastiera fino al bordo, adesso andiamo a stendere le listarelle che andiamo a mettere sopra e poi le andiamo a infornare. Questa pastiera piccola ha bisogno dai 40-45 minuti a 180 gradi. Ed ecco è uscita questa bella pastiera dopo 50 minuti di cottura. Grazie a tutti.